Serata d'arte all'auditorium di piazza Sant'Alfonso a Pagani con la quinta esposizione artistica Floriano Pepe organizzata dal pittore Gioferri, un evento per ricordare l'artista paganese e le sue opere per ispirare le nuove generazioni. Quest'anno correrà la quinta edizione Floriano Pepe, un memoriale d'arte che facciamo ogni anno. Il nostro scopo è valorizzare sempre di più questo noto pittore paganese che purtroppo non è ancora molto conosciuto, però noi ci stiamo proprio combattendo per questo. Qui esponiamo all'auditorium di Pagani e facciamo questa collettiva d'arte e vogliamo sempre migliorare di più questo evento ogni anno che passa. Oggi vorrei tanto che le nuove generazioni riconoscessero la sua bravura e soprattutto il fatto che è stato tanto amante del suo paese che ha portato prima di tutto fuori la Campania e poi fino a Parigi. Infatti era membro dell'Accademia Richelieu. Lui ha cominciato a disegnare a terra con un cessetto la festa della Madonna delle Galline. Sempre ha avuto nel cuore questa festa e il sogno di portare questo paese lontano. Ha prodotto anche dei quadri che avevano per soggetto la tamborra, che oggi è il simbolo di Pagani.